Ciao a tutti ragazzi sono Marty VJ ed oggi siamo in un nuovo video, non sono a casa mia ma sono a casa di mio cugino RickNut07 Bella raga Allora, non si vede bene Rick però ha la maschera da Spider-Man E abbiamo questa luminosità perché vogliamo giocare un gioco E lo neighbor alfa 1 Buona misura Eccoci ragazzi su Hello Neighbor iniziamo a giocare New Game Ok Allora noi faremo una partita per uno Quando uno muore l'altro ci va Ok Inizia Quando Oh Ecco Ok Ok Chi sta guidando? Ma Ma vi faccio vedere guardate Oh vicino Guardate Non c'è nessuno in macchina Chi cazzo sta gu... Oh madonna C'è i guanti giganteschi Madonna Non ci abbiamo mai giocato? Ma c'è l'acqua qua E' vero? Ecco non c'è nessuno Ma è lui che mi spia Brutus Stalker Che c'è scritto? Accendi l'elettricità Guarda dentro E brucia Allora E brucia Allora Perfetto Allora avevamo detto Che giochiamo una partita per uno Quando muoio io Quando il vicino mi prende Tocca a Rick Quando Muore Rick Prende il vicino Tocca a me Ok Allora No Io l'ho solo scaricato Fino alla beta Però Non ci ho mai giocato Quindi Proprio mai zero Proprio zero zero Appunto E poi E poi Ho seguito un tutorial Per i tasti Perché c'era un tutorial All'inizio Però quando lo scaricavi C'era un tutorial Allora Beh più o meno Per i tasti di Minecraft Sì Allora I giochi Il gioco Di allonebora in alfa Quindi Non contiamo i bug Che arrivano Adesso Posso dormire Oddio Posso dormire Chiudo tutto Perché se no Mi entrano i monster In casa Chiudi E dormiamo Oh no La mia sedia No È andata dal video Dopo E poi la torcia La torcia Ma non ce l'ha messa dentro ancora No Perché Avevo visto No Mi sa che l'ha messa sopra Così Però Dove No Ah eccola No Però Però Che pizza Mi si è Manna Mi sono Sono Diventato L'uomo Che Che fa Che 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 Va bene Entriamo dentro No Io direi Entriamo dal lato Perché ho sentito Brutti rumori Dal vicino Ok Entriamo dal Ok Cos'è questa La caldaia Ok Vado su Vado su Vado su Ok C'è una campanella Che mi serve Io direi di entrare dopo In questa stanza E' E' Prova delle istanze Però Non Questa qua Sì Noi Andiamo subito Alle prime cose Che vediamo Che Por cazzo Cos'è Istruzioni C'è una persona Pré Corri Corri Vado L'esercit Vado Y' Dove Sì Sì Corri Vado Che Le Vado C'è una persona ah ok, non ci, non do, deve prendere, vai, corri, cacchio no, no, porca, dentro, no, 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 che, che, what, what is it, cos'è, c'è una macchina, c'è una macchina, nostra, ma c'è la, eh, nostra, mi sa, le come, mi sa che le come sono quelle le nostre, oddio, non è che ci vuole ammazzare, e poi è rimasta in piedi, appunto, e lui c'è lì, c'ha una gomma nel fratto, ma secondo me, io sto cominciando a credere, che il signor Giorgio, no, Gianfranco, eh, il signor Gianfranco, è un serial killer, secondo me sto, sto iniziando una pezza, Giorgetta, ce l'abbiamo per, era la nostra, la nostra, si, le gomme, ma le quali, non è che era solo un sogno, sto pensando questo, non è che era un sogno, ho la scavatura, che cazzo, ho lanciato una torcia, perché lui, praticamente, non l'ho fatto il tutorial, lo so, praticamente, prima non l'ha fatto il tutorial, secondo, gioca Minecraft sul computer, quindi ha l'abitudine dei tasti di Minecraft, grazie, per cui sono io, vai, 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 c'era una telecamera, che c'è, che sta facendo, che fa, ma che, no, l'ha tolto, zio, beh, me l'ha arrivato, me l'ha arrivato, scappa, scappa, guarda, ha messo una telecamera, olas,줄, ma che va a bo passion, non, la ripetendo, tranquila, guarda,6, via, scoperta, cappa, scappa, 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 shift, shift, vai, vai, io penso sempre che mori a questo punto vai mi sembra cosa vai subito a dormi vai dormi 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 no dormi ce l'ho fatta 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 mi stavo guardando io mi sono dormita come ho fatto ma lonna il montaggio che paura che paura al massimo abbiamo Giorgetta e Genoveffa no bastardo mamma mia stavolta dobbiamo aumentare entrare e andarla se no lo rompo aspetta rompo la finestra prendo la sedia e ci salgo sopra allora prendi subito la sedia prendi quella e vai con la sedia oppure con un bidone secondo me giochi solo tu perché scusami non stai a morire sono troppo un prato ahia oh ah la va l'elettricità che ha messo le telecamere pur rallentata secondo me ha messo le telecamere che cacchio devi trovare ecco vai perfetto l'hai tolta e lui adesso e lui adesso dovrebbe arrivare fuori perché si è tolta l'elettricità capito secondo me viene fuori zio devi stare attento se genoveffa la perdiamo è finito il video aspetta vai come se va mette ho sentito che usciva vai via vai via ho sentito no no proprio là secondo me viene vabbè noi intanto va bene ragazzi se questo video vi sia piaciuto spolliciate madonna che paura quella spolliciate madonna c'è la per fortuna che sarà baggato per un po' perché se no appunto c'è è entrato in casa era qui vicino addormito sia proprio così condividete il video veramente vi prego facciamo così appunto spero che vi sia piaciuto anche vostro cugino adesso io devo andare perché domani domani vado in treno per andare da mia mamma e ricominciano i veri giochi spolliciate